Riusciamo a sfatare dei falsi miti circa l'alimentazione, come ad esempio il gelato che sostituisce un pasto piuttosto che fare un unico pasto durante tutto l'arco della giornata? Allora, possiamo dire che da un punto di vista calorico il gelato effettivamente sostituisce un pranzo costituito da carboidrati, da un secondo fatto di carne e verdure e anche comunque da frutta. Però da un punto di vista nutrizionale logicamente non c'è nessun tipo di paragone in quanto il gelato essendo costituito da una base di latte, zuccheri e diciamo che in alcuni casi uova, diciamo che ci fornisce dei nutrienti differenti rispetto al pasto completo che sicuramente è maggiormente consigliabile. Effettuare invece un unico pasto durante l'arco del giorno? No, in realtà diciamo che saltare i passi fa malissimo, nel senso che non fa dimagrire, in quanto effettuare dei digiuni prolungati ralenta il metabolismo. In realtà noi dobbiamo proprio effettuare 5 passi al giorno, quindi 3 passi principali e 2 spuntini proprio per accelerare il metabolismo e anche per evitare i carri ipoglicemici che sono tipici del periodo estivo.